Buongiorno, bentornati sul canale di Sottosopra. Io sono Federica dell'Associazione, vedo già collegato il professor Sishi, che oggi è il nostro ospite, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Tra poco poi vi racconterò del prestigioso curriculum del professore. L'incontro di oggi è intitolato La Cina e noi. Il titolo è già eloquente, parla di una relazione, una relazione come dire imprescindibile, dato il ruolo naturalmente ormai economico della Cina come prima potenza mondiale, entrata definitivamente nella cosiddetta era dell'ambizione, ma anche un rapporto necessario, necessario tra una grande nazione che vuole proporsi come modello alternativo a livello culturale, politico e sociale. In noi siamo naturalmente noi europei e in particolare italiani e quindi di questo parleremo oggi. Grazie all'aiuto del professor Sishi, che è esperto di Cina e di lingua cinese, è ricercatore presso la Renmin University of China a Pechino, corrispondente storico dalla Cina per diverse testate, tra le quali Ansa, La Stampa, Il Sole 24 Ore, Asia Times e consigliere scientifico della rivista Linux. Annoverò anche qualche testo a livello bibliografico per coloro che volessero approfondire questo affascinante tema. Ha pubblicato Chi ha paura della Cina, La Cina cambia e ricorderò, perché il titolo ci aiuta a dare l'abbrivio a questa nostra chiacchierata, un testo del 94 edito da Feltrinelli che si intitola La Cina e il mondo ed è proprio da qui che partiremo, poiché in un tempo limitato affronteremo quello che è il rapporto tra il cosiddetto celeste impero e l'Occidente. L'Occidente, come dicevo prima, è l'Occidente europeo e italiano. La prima domanda quindi che vorrei porle, professore, è quali sono le caratteristiche culturali e le usanze del mondo cosiddetto occidentale, quindi specificatamente europeo e italiano, che i cinesi fanno più fatica a comprendere e con cui stentano a rapportarsi? Prego. Sono tantissime, è difficile cominciare, c'è una caratteristica degli italiani che è comportamentale nei rapporti con la Cina, che ha minato e ha danneggiato i rapporti bilaterali. Secondo i cinesi gli italiani sono romantici, si usa questa parola, che significa che fanno grandi promesse, ma sono le famose promesse da marinaio, che poi non hanno nessuna conseguenza. Invece i cinesi, che sono persone serie, hanno anche aspetti un po' faciloni, ma specialmente nei rapporti commerciali o in quelli politici c'è una grande serietà, e hanno difficoltà a rapportarsi con gli italiani che invece promettono Marie Monti per poi, come dire, dimenticarsi nel giorno dopo. Questo è un elemento. Una cosettina, un paio di punti, se mi posso permettere, sulla sua presentazione. La Cina non è la prima potenza del mondo, anche economicamente, politicamente, è la seconda, la terza, dipende da come si fa il conto, cioè la prima, senza altro, degli Stati Uniti, forse la terza se si conta l'Unione Europea messa insieme e poi militarmente, politicamente, non è ancora arrivata al vertice. Un secondo elemento molto importante è la Cina come alternativa. Bene, la Cina non si è mai posta come alternativa al nostro modello, almeno dai tempi di Mao, cioè da 50 anni fa, ed è molto attenta a proporsi come tale, perché sa che proporsi come alternativa al mondo occidentale significa sfidare apertamente l'ordine come lo abbiamo oggi, quindi sarebbe una specie di guerra. Un errore. Politica e ideologica molto importante. Certo però c'è un elemento in quello che dice lei, cioè la Cina non è nemmeno pienamente integrata nel mondo occidentale e negli ultimi vent'anni, direi, progressivamente ha sempre cercato di inserire nuovi elementi che cambiano questo ordine. Uno per tutti è l'idea della via della seta che naturalmente avrebbe potuto avere un impatto globale molto forte. però per il modo in cui è stata gestita, per il modo in cui è stata applicata, l'impatto globale è stato molto minore di quanto si sperasse e oggi la Cina si trova ad affrontare due grandi sfide in qualche modo non previste. Non so se mi porto avanti poi con le altre domande. Prego, va benissimo, va benissimo. Questa era, introduce già la seconda domanda che le avrei posto, che era quella riguardante le opportunità in Italia, specificatamente in Europa. Quindi va benissimo che lei introduca questo tema. Gli altri due elementi sono dove la Cina ha sbagliato, è stata colta in errore più o meno scientemente, è stato come affrontare la guerra in Ucraina e come affrontare il Covid. Come affrontare la guerra in Ucraina è stato in qualche modo un errore abbastanza semplice, cioè la Cina ha creduto alle informazioni che arrivavano dalla Russia che l'Ucraina si sarebbe piegata alle pressioni di Mosca e quando questo non è avvenuto, bene, la Cina si è sentita, come dire, che aveva perso l'equilibrio e quindi cerca di ritirarsi, di fare dei passi indietro, però effettivamente c'era la spinta iniziale e quindi è in grande difficoltà. La seconda difficoltà è un po' più complessa, anzi molto più complessa, è come la Cina ha affrontato il Covid. Adesso ci sono decine, forse alcuni dicono, oltre un centinaio di città cinesi sotto parziale o totale lockdown. Lockdown, ed è questo dovuto alla politica che inizialmente due anni fa di questi tempi aveva avuto successo, cioè di controllo totale della popolazione, questa politica dello zero Covid che noi in Occidente non siamo riusciti ad applicare e che in Cina, grazie a un'organizzazione statale molto forte, invece sono riusciti ad applicare. Però questa politica in realtà si basava su un virus, certamente molto virulento, ma ancora relativamente debole nella diffusione. Adesso questa variante, questa Omicron o quello che sia, è forse un po' meno virulento, ma molto più di facile... Trasmissibilità. Trasmissibilità, il che rende estremamente difficile, se non impossibile, contenerlo con una politica di controllo della popolazione. E qui, paradossalmente, l'Occidente si trova in vantaggio, perché l'anarchia delle democrazie e le campagne vaccinali efficaci, con dei vaccini efficaci, ci hanno dato una specie di immunità di Gregg. I cinesi, viceversa, che hanno dei vaccini che non sono estremamente efficaci e hanno delle politiche che sono inefficienti rispetto alla situazione, si trovano oggi in grave difficoltà, perché respingere questa politica dello zero Covid significerebbe ritornare indietro, quando la campagna di lotto al Covid era diventata in Cina una questione ideologica, politica, non più pratica. E qui abbiamo delle contorsioni non piccole del paese, delle difficoltà molto grandi, che io credo il paese riuscirà ad affrontare, perché ha una struttura molto forte, è un partito molto malleabile, coeso, sa, le lotte di potere nel partito sono... Relativamente, sì. Sono storiche e molto dure, però in questo ci sono delle sfide molto, molto importanti. Bene, vorrei ritornare sul, se lei mi permette, sul modello di sviluppo cinese. Ho trovato interessante questa definizione che viene data di un modello teso, come un elastico tra ideologia e adattamento, che è un po' la sfida principale, no? A cui la Cina è chiamata. Mi correggerà la pronuncia, Wang Zhe, credo si dica, o esponente del governo cinese, dichiara, dopo un trentennio di rapida crescita, Pechino intende sempre aggiornare la sua peculiare teoria dello sviluppo con caratteristiche cinesi. E a questo scopo cerca di assimilare le teorie economiche occidentali senza però copiarle. Allora, le chiedo, a sua opinione è questa una ricetta grazie alla quale la Cina riesce ad essere così impattante nell'economia occidentale senza però poi perdere una propria identità? C'è una sorta di segreto in questo? Guardi, la crescita cinese è cominciata per delle politiche molto precise e queste politiche sono state tutte americane, anche se ovviamente oggi la politica cerca di Pechino in qualche modo lo mette da parte. Cioè cosa è successo? C'è stato un grande patto politico negli anni settanta che si è concluso alla fine degli anni settanta. Cioè i cinesi hanno aiutato gli americani nel contenimento della minaccia sovietica, hanno messo dei punti di osservazione in Xinjiang e in Mongolia per monitorare le posizioni sovietiche che hanno attirato dalla parte orientale truppe, armamenti che altrimenti sarebbero stati schierati in Europa. Non solo, hanno aiutato il trasporto di armi americane verso i Mujedin che combattevano in Afghanistan contro i russi e quindi hanno aiutato la vittoria contro l'Unione sovietica anche perché in qualche modo hanno messo in competizione con il Pakistan in questo modo perché il Pakistan in qualche modo ricattava gli americani dicendo dateci più soldi invece fornendo una rotta alternativa hanno facilitato le operazioni americane. La terza cosa importante con la benedizione americana hanno attaccato il Vietnam che aveva già invaso la Cambogia e minacciava di invadere la Tailandia e quindi hanno fermato questo effetto domino nell'Indonesia e nell'Indocina. Questi tre elementi hanno convinto allora gli americani a dare e concedere alla Cina qualcosa che al tempo non avevano concesso a nessun paese asiatico compreso Taiwan compreso il Giappone e la Sud Corea. Cioè hanno concesso che i prodotti cinesi prodotti in Cina potevano entrare in America con un dazio inferiore al 3%. Non solo hanno permesso il trasferimento di tecnologie occidentali in Cina la modernamento per esempio c'è stato un periodo in cui la legna su indicazione americana aveva fornito il 70% dei sistemi radar in tutta la Cina. E terzo elemento l'America attraverso la Banca Mondiale ha consigliato una serie di politiche di sviluppo. I cinesi sono stati bravissimi ad applicare tutte queste politiche e hanno lavorato duro hanno fatto benissimo però quello che voglio dire è questo cioè il miracolo cinese non è in laboratorio né un'invenzione tutta cinese cinese è una collaborazione stretta efficace performante si direbbe in termini tra Cina e America questa collaborazione si è rotta adesso direi è troppo complicata andare a vedere perché come e forse anche quando si è rotta diciamo si è rotta definitivamente la frattura secondo me è arrivata alla fine del 2009 all'inizio del 2010 e da allora la frattura si è via via approfondita con l'approfondimento di questa frattura non c'è stato un rallentamento della crescita economica cinese però hanno cominciato ad accumularsi una serie di difficoltà che prima di allora erano latenti e soprattutto che prima di allora l'opinione pubblica mondiale occidentale aveva fiducia che Pechino avrebbe superato oggi ci troviamo quindi a una giuntura una congiuntura molto molto delicata per il paese e per noi cioè o Pechino raddrizza la linea e ritrova un modo di cooperare politicamente con gli Stati Uniti e con i vicini tipo Giappone India ma anche Vietnam che ha cambiato barricata lato della barricata nel frattempo oppure le difficoltà cinesi potrebbero continuare a crescere un'altra domanda dunque mi interessava capire una sua opinione su un altro terreno di incontro scontro col mondo occidentale che è la corsa allo spazio i cinesi appunto negli ultimi anni hanno come dire velocizzato e incrementato questa questa spinta lo scorso 16 aprile c'è stata l'atterraggio della Shenzhou 13 dopo aver compiuto la missione più lunga nello spazio da parte di un equipaggio cinese e si parla di una tentata collaborazione anche se gli Stati Uniti su questo chiaramente come dire esprimono un veto per motivi di sicurezza nazionale e la Cina sarebbe propensa ad una collaborazione ma ancora non è chiaro in che senso tale collaborazione potrebbe verificarsi allora a suo parere quali sono appunto questi spazi di collaborazione e quali gli obiettivi da parte dei cinesi rispetto a delle esplorazioni spaziali guardi anche lì il problema è antico la collaborazione sulla missilistica nasce con gli Stati Uniti tutto il programma di miglioramento dei razzi che allora si chiamavano lunga marcia negli anni 90 nasce con una stretta collaborazione con aziende americane un abbattuto d'arresto si ha alla fine degli anni 90 quando nel 98 99 uscì quello che allora si chiama un Cox Report che denunciava come attraverso questa collaborazione specie nell'aerospazio i cinesi in realtà avevano rubato tecnologia avevano sottratto tecnologie americane e se le erano poi sviluppate per conto loro prendendo anche altre tecnologie dall'Europa e magari dalla Russia questo nodo c'è ancora cioè c'è una sfiducia degli americani ma anche degli altri paesi oggi a collaborare sulle tecnologie con la Cina proprio per questi furti di proprietà intellettuale quindi io credo che tutti sarebbero interessati a collaborare con la Cina purché certe certe regole siano rispettate una cosa qui entriamo una cosa un po' tecnica e non non banale cioè e come dire io penso personalmente che sia anche comprensibile e quindi perdonabile che un paese in via di sviluppo con un'economia relativamente piccola prenda delle scorciatoie sottragga questo o quell'altro lo hanno fatto tutti i paesi il Made in Germany era un'invenzione dell'Inghilterra per mettere un'etichetta sui prodotti tedeschi che all'inizio erano di qualità inferiori a quelli inglesi e poi erano di qualità migliore i vestiti la lana la tessitura della lana in Italia deriva dalla tessitura inglese e poi l'abbiamo migliorata e oggi pare che le lana italiane siano migliori di quelle inglesi cioè all'inizio di un processo di sviluppo non c'è non c'è problema se però naturalmente un'economia come quella cinese che oggi è appunto come lei diceva la seconda terza quarta quello che sia è certamente la prima potenza commerciale questo commerciale sì è corretto è vero è la prima potenza commerciale naturalmente se questa azienda continua a fare così cambia tutto cioè se un bambino si prende difficoltoso il rapporto chiaramente rende difficoltoso qualunque rapporto cioè se un bambino si prende una nocciolina sul banco della fiera non succede niente può essere spiacevole può essere simpatico ma come dire sono cose che succedono altra cosa se un adulto si prende tutto il banco delle noccioline mezzo banco delle noccioline e la dimensione qui fa fa la differenza allora la Cina qui in realtà si rende conto non è ingenua si rende conto di queste difficoltà cioè un saggio che io ho tradotto nel 2005 di un generale cinese Liu Yajou che diceva noi fino adesso nel 2005 ci siamo sviluppati perché avevamo un modello da seguire che era il modello americano se lo superiamo se pensiamo di superarlo e poi come apriamo la strada cosa dove vogliamo andare cosa vogliamo fare si quindi c'è anche una ricerca di una propria identità in questo proseguio no quello che no cioè esattamente il contrario cioè Liu Yajou diceva noi non siamo in grado di essere numeri uno no di portare la volata ah ok e quindi se noi diventiamo numeri uno e abbiamo perso l'America dove andiamo non lo sappiamo in che direzione ci muoviamo non lo sappiamo questo senso di smarrimento io credo ci sia sempre più profondamente in Cina lo sento più profondamente in Cina in qualche modo mascherato da affermazioni sempre più certe però alla fine che tradiscono in realtà come dire un'insicurezza anche un'insicurezza una debolezza noi per esempio oggi noi abbiamo come lingua internazionale la parlano tutti l'inglese e gli americani gli inglesi sopportano che noi parliamo l'inglese con tutti i tipi di storpiature possibili immaginabili e con tutti i tipi di storpiature grammaticali e di pronuncia e fanno finta a volte graziosamente di capirci certo no? ed è una lingua che poi è stata spogliata dai suoi orpelli più difficili e tutti parliamo lo stesso non è accaduto con con il cinese non cade in Cina e e certamente la Cina il cinese è molto lontano dal diventare una lingua internazionale anche perché oggettivamente il cinese è molto più difficile dell'entresa questo non questo è oggettivamente un ostacolo all'internazionalizzazione del 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 grande un grande ostacolo certo certo secondo ostacolo molto più importante in realtà è che l'egemonia per usare una parola in voga in Cina americana si è affermata dopo 500 anni di progressiva egemonia occidentale nel mondo hanno cominciato gli spagnoli i portoghesi gli olandesi i francesi gli inglesi e alla fine sono arrivati gli americani in un progresso di stratificazione cioè ogni strato ha superato e ha preso succhiato il precedente gli americani quello più evidente hanno preso e rimpiazzato l'impero l'impero inglese quindi con la Cina non c'è stato almeno finora un simile tentativo con l'America cioè se l'America se la Cina volesse diventare grande potenza globale dovrebbe adattarsi al sistema americano e su quella base stratificarsi e man mano affermare la la sua potenza se viceversa come sembra in alcuni movimenti la Cina vuole respingere il sistema esistente rovesciarlo è certo che è molto più difficile perché non è un problema dell'America è un problema di sistema in cui il mondo noi siamo abituati a certe regole ma non da oggi da mezzo millennio non noi ma tutto il mondo e quindi questo si come dire rimpiazzarle diventa una sfida molto complicata certo allora cambiamo argomento adesso le porrei una domanda invece sulla questione della religione in Cina sono presenti cinque religioni ufficiali tra cui il cattolicesimo che converge nell'associazione patriottica cattolica cinese allora quali sono gli attuali rapporti tra la Cina e il Vaticano conseguentemente all'accordo firmato nel 18 e rinnovato nel 20 che ha favorito la regolarizzazione di alcuni vescovi in passato costretti alla clandestinità a che punto è questa relazione diciamo ci sono stati dei miglioramenti con il senno di poi questo questo accordo è stato una cosa santa perché se non si fosse firmato allora forse non si sarebbe mai più firmato e però negli ultimi due anni due anni arrotti i rapporti diretti tra Santa Sede e Cina sono oggettivamente molto difficili proprio perché non si viaggia quindi non ci si incontra per il Covid e questo naturalmente ha imposto un fermo al miglioramento dei rapporti detto questo io penso che il rapporto con della Cina con la Santa Sede sia molto importante e molto utile perché dà alla Cina una sponda in più nel resto del mondo le citavo quel quel libro la ringrazio che di 30 anni fa c'è c'è un rapporto della Cina con il resto del mondo e per la Cina in realtà il resto del mondo è l'America e tutto il resto e adesso da un po' di anni da qualche anno ci si è accorta alla Cina che c'è un'entità politicamente diversa dall'America che è la Santa Sede che riesce a dialogare anche con l'America in maniera paritaria ecco questo è stato molto importante ed è molto importante per la Cina per comprenderlo però effettivamente i progressi da parte la Santa Sede su questi non sono stati moltissimi è comunque un dialogo complesso persiste la complessità è un dialogo molto difficile è un dialogo molto difficile perché la Cina non vuole giustamente entrare in questioni religiose la Santa Sede è interessata solo a questioni religiose sostanzialmente quindi ogni volta l'impressione è molto difficile trovare un terreno di comunicazione di scambio un terreno comune però detto questo si va avanti è una questione storica veramente storica quindi complicata complicata le pongo un'ultima domanda questo se mi permette un po' più personale quindi visto che lei ha vissuto ben capito per tanti anni a Pechino giusto? esatto e volevo capire allora quando lei come dire ha iniziato la sua esperienza di vita e professionale lì quali sono stati a suo parere nella sua esperienza le comprensioni e le incomprensioni ecco tra un italiano in effetti e i cinesi con cui si è rapportato guardi io sono arrivato alla fine degli anni ottanta in Cina quando veramente Pechino era diverso mi ricordo ero al finestrino guardavo il finestrino era l'alba un viaggio lunghissimo allora non si poteva volare sopra sopra allora c'era l'URSS l'URSS mi ricordo era una rotta diversa è una rotta diversa ho fatto c'è stato uno scalo a Dubai e Dubai non era quella di oggi non mi ricordo insomma morale della favola io sono arrivato in questa mia stanza dopo 48 ore che ero praticamente sveglio in viaggio ero in uno stato di allucinazione poi non come dire oltre un bicchiere di vino non sono mai andato quindi ero veramente eppure lì forse in questo stato di semi allucinazione io poi ho bisogno di dormire otto ore al giorno perché altrimenti non ragiono quindi immagino non connette eppure lì c'è stato qualche cosa che mi ha fatto entrare in sintonia ho capito qual era questa sintonizzazione io sono calabrese di origine e ho ritrovato ho capito la Calabria della mia infanzia e dall'ora in poi mi sono comportato come se fossi in Calabria e mi è andato tutto bene non ho avuto un problema al mondo è una sua tattica personale comportarsi in Cina è successo cioè non è successo è la Calabria antica degli anni 60 in cui bisogna essere molto seri molto i calabresi non sono come si dice chitarra e mandolino sono temperamento diverso certo temperamento diverso cioti come si dice cioè di testa duro e stupidi quindi caso mio è però seri e ha trovato non ha avuto problemi benissimo professore io la ringrazio davvero molto spero che anche per lei sia stato un buon tempo di confronto davvero grazie da parte nostra di Sottosopra è stato un onore per noi e spero di rincontrarla più presto magari dal vivo possibilmente grazie tante un saluto a tutti gli ascoltatori di Sottosopra e buon proseguimento grazie mille grazie grazie a tutti